Cesara Buonamici è stata ruolata da Pier Silvio Berlusconi nelle vesti di unica opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini prenderà il via a partire dal prossimo 11 settembre in prima serata su Canale 5. Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo TV, la giornalista del TG5 avrebbe chiesto delle precise garanzie all'amministratore delegato di Mediaset prima di accettare la sua offerta, in dubbio è che ritrovare Cesara Buonamici come opinionista del GF farà un certo effetto a chi è abituato a seguirla al TG5. Di certo la giornalista ha chiesto garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l'abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura. L'ad di Mediaset vuole dare una svolta al reality, alzando il livello qualitativo ed eliminando il trash. Sarà quindi lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici, non certo il contrario. Resta da capire se il nuovo corso del programma otterrà anche gli ascolti sperati.